scuola in sicurezza convocate le regioni domani presidenti a confronto su come programmare il contenimento del virus in vista del ritorno in classe poi la verifica con il governo sul trasporto pubblico presenze raddoppiate c'è ancora da lavorare un'estate diversa dalle altre ma tantissimi hanno scelto il molise rimanendo ammirati dalla particolarità del territorio toma annuncia miglioramenti sui servizi ripartiti i lavori sul viadotto santonofrio aperto il cantiere sulla trignina per mettere in sicurezza il ponte per riaprire la strada ci vorranno almeno tre mesi percorso alternativo per ridurre i disagi una casa rifugio per le vittime di violenze sarà realizzata isernia nei prossimi mesi con i proventi della vendita di magliette e un disco l'iniziativa presentata in comune dai promotori del progetto buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione parliamo in apertura della situazione covid soprattutto collegata alla ripresa delle scuole alla riapertura delle scuole in programma il 14 settembre il presidente delle regioni bonaccini ha convocato i suoi colleghi per domani in una seduta straordinaria della conferenza proprio per mettere a punto la programmazione con particolare attenzione al trasporto pubblico poi il confronto con il governo nella serata di domani il servizio sul tavolo dei presidenti delle regioni ci sono diversi ordini del giorno tutti sul tema motivo della convocazione straordinaria della conferenza in programma domani pomeriggio in streaming per programmare le misure di contenimento del covid 19 in vista dell'ipotesi di riapertura dell'anno scolastico i governatori tuttavia dovranno discutere domani su come organizzare il trasporto pubblico un elemento centrale per far ripartire le lezioni in presenza trasportare gli studenti ma anche insegnanti e personale pendolare rappresenta un nodo non ancora del tutto sciolto la regola del distanziamento non fa rima con la disponibilità dei mezzi né con il numero di corse di pullman e treni al termine della conferenza convocata da bonaccini i presidenti dovranno confrontarsi sempre domani sera e sempre in collegamento video con il ministro francesco boccia dal molise è arrivato l'appello del garante dei diritti della persona leontina lanciano che ha invitato il ministro dell'istruzione azzolina a non retrocedere sulla riapertura il 14 settembre la chiusura prolungata ha argomentato la garante ha avuto ripercussioni negative su bambini e ragazzi l'obiettivo principale ha aggiunto resta quello di assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze dei minori che hanno già subito gravi compromissioni a causa del lockdown durante la pandemia è naturale ha concluso leontina lanciano che la tutela della salute deve restare un punto fermo ma in molise la situazione appare incoraggiante e anche l'ufficio scolastico regionale si sta adoperando per ridefinire gli spazi e i modi per consentire agli alunni e agli studenti il ritorno in classe in sicurezza ore di grande lavoro per i vigili del fuoco sul fronte degli incendi nella tarda serata le fiamme hanno interessato una zona a ridosso dell'abitato di castropignano incontrata a tivone a poche centinaia di metri dall'innesto della fondo valle del rivolo i vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per avere ragione del fuoco che ha mandato in fumo alcuni ettari di vegetazione scena analoga a larino per le fiamme divampate alla periferia del paese anche in questo caso l'incendio è stato domato dopo un lungo lavoro dei vigili del fuoco ed è stata un'estate diversa dal solido lo abbiamo ripetuto tante volte per via dell'emergenza ma nonostante tutto in molise sono arrivati tantissimi turisti quasi raddoppiate le presenze con commenti favorevoli per le particolarità del territorio le bellezze che sono state trovate sui posti visitati abbiamo sentito il governatore toma che ha ribadito la bontà di quanto è stato fatto ma ha ammesso comunque che ancora c'è tanto da lavorare il servizio di tonino danese un'estate particolare diversa da tutte le altre quella di quest'anno l'emergenza covid l'ha sicuramente segnata c'è chi ha scelto vacanze diverse in molti sono arrivati in molise alla scoperta della regione che non esiste se ci si vuole rifare a un tormentone ma che bando all'ironia c'è e come tanti gli apprezzamenti in rete ma non solo con testimonial anche di eccezione per le sue bellezze paesaggistiche peculiarità la cordialità della gente i cibi la tranquillità dei borghi ma sono venute alla luce pure le ombre problemi di viabilità indicazioni per luoghi archeologici ed arte carenti questi ultimi in alcuni casi trovati anche chiusi insomma uno scenario che deve far ragionare e riflettere le istituzioni per programmare il futuro e correggere gli errori nulla accade per caso e nulla accade in mano nulla accade per caso significa che le visite che noi abbiamo ricevuto quest'anno abbiamo raddoppiato le presenze è stata un'estate purtroppo nefasta per il covid ma eccezionale per il turismo molisano e perché c'è stato un lavoro a monte non è stata fortuna non è stata casualità ma c'è stato un lavoro a monte che ha portato a questi risultati un lavoro portato avanti dall'assessore cotugno da tutta la giunta regionale e da me in prima persona nulla accade per caso tutto ciò che accade che noi registriamo di buono o di cattivo tendiamo a riproporre le cose buone a migliorarle a eliminare le cose cosiddette tra virgolette cattive sicché avremo avremo dei miglioramenti sensibili anche sulla segnaletica e sulla sentieristica abbiamo dei finanziamenti sulla sentieristica che non sono stati mai attivati come d'altronde in una prossima conferenza stampa che sto programmando vi dimostrerò in altri settori abbiamo finanziamenti esitati e mai attivati ci piacerebbe sapere perché la regione rivendica la bontà di quanto messo in campo consapevole che c'è da lavorare tanto è tutto scritto nel piano strategico del turismo non per niente abbiamo redatto un piano strategico che è in corso di attuazione abbiamo avuto una sorta di sospensione per via di questa maledetta pandemia se saremo bravi come penso che lo siamo stati in questo periodo i risultati potrete vederli ed apprezzarli e siamo alla situazione coronavirus in regione i numeri restano ancora molto contenuti il bollettino dell'asrem è quello della serata di ieri un solo contagio riscontrato con 302 tamponi effettuati le istituzioni raccomandano però di non abbassare la guardia record di tamponi 602 negli ultimi due giorni e curva del contagio che in molise rimane molto al di sotto della media nazionale dall'ultimo bollettino diramato dall'asrem è emerso un nuovo caso di una persona trovata positiva al covid nello specifico si tratta di un residente a ferrazzano tornato dalle vacanze in sardegna risultato tutto sommato accettabile che però induce i vertici dell'azienda sanitaria e quelli regionali a rinnovare l'invito alla prudenza e all'osservanza delle regole del distanziamento oltre che a quelle del buonsenso e del rispetto della convivenza civile tuttavia i numeri del molise raffrontati a quelli più che preoccupanti delle regioni dove il contagio ha mietuto migliaia di vittime restano molto contenuti e nonostante ci sia ancora qualche polemica sul numero dei tamponi è evidente che la zona più aggredita è stata la provincia di Campobasso in totale sono stati effettuati 32.155 tamponi dai quali il risultato contagiato dal coronavirus solo l'1,6 per cento di chi ha effettuato il test i positivi sono stati fino ad oggi 525 l'81,5 per cento in provincia di Campobasso dove i contagiati sono stati 428 contro i 77 della provincia di Isernia per una percentuale del 14,6 22 i positivi di fuori regione i cosiddetti cluster più numerosi si sono verificati nel capoluogo quello più famoso della comunità rom ormai del tutto circoscritto e gli ultimi delle persone arrivate in molise i venezuelani i migranti e i turisti che stanno rientrando dall'estero e da località dove il contagio è ripartito con maggior vigore ancora polemiche sulla gestione del fondo per la non autosufficienza per il consigliere regionale del partito democratico vittorino facciolla il governatore non sa quello che dice oppure mente secondo l'esponente del partito democratico non c'è stato alcun incremento di fondi da parte della regione resta comunque il fatto che dopo la denuncia del pd la regione e toma sono corsi ai ripari finché toma sarà al governo ha concluso facciolla saremo un pungolo particolarmente accuminato per lui e sui fondi per la non autosufficienza è intervenuta anche la presidente della quarta commissione permanente filomena calenda secondo la quale bene ha fatto la regione a cofinanziare il provvedimento rimando al mittente ha dichiarato filomena calenda le accuse di non aver approfondito l'argomento il traguardo di oggi ha concluso e frutto del lavoro critico svolto negli ultimi mesi al quale anche la quarta commissione ha dato un apporto costruttivo sono cominciati sulla trignina i lavori sul viadotto santonofrio ci vorranno tre mesi per riaprire la strada e per la messa in sicurezza del ponte un percorso alternativo è stato individuato per evitare e per ridurre i disagi sentiamo sergio di vincenzo salvo imprevisti il tratto della trignina compreso tra i due svincoli di pescolanciano riaprirà il 18 dicembre prossimo resterà chiuso al traffico per oltre tre mesi per consentire all'anas di mettere in sicurezza il viadotto santonofrio per farlo sono stati investiti due milioni e mezzo di euro il traffico è stato deviato sulle rampe di collegamento tra la strada provinciale aquilonia e la fondovalle del trigno in pratica chi viene dai serni ed è diretto a san salvo esce allo svincolo di pescolanciano e prosegue per qualche centinaio di metri fino a raggiungere una rotatoria provvisoria creata doc da qui si torna indietro e si imbocca la rampa che mette nuovamente sulla trignina seguendo le indicazioni per vasto e san salvo chi invece proviene dall'abruzzo entra allo svincolo di pescolanciano il primo che si trova arrivando da chiauci va a girarsi alla rotatoria torna indietro e si mette sulla rampa perisernia questo sistema permette di ridurre i tempi di percorrenza comunque stimati in circa sei minuti fanno sapere dall'anas inevitabile qualche disagio al traffico ma l'intervento non era più rinviabile sono diversi infatti sulla trignina i viadotti che necessitano di manutenzione a partire dal gamberale nel tratto fra chiauce civita nova del sannio i lavori di messa in sicurezza per i quali sono stati stanziati 3 milioni e mezzo di euro sono a buon punto ma in questo caso per ridurre al minimo i disagi al traffico si è optato per il restringimento delle carreggiate consentendo così agli operai di lavorare in sicurezza e alle auto di transitare seppur a velocità moderata tale intervento fu sollecitato in tempi non sospetti da un operaio di civita nova giuseppe padula durante un'escursione notò che pilastri si stavano sgretolando i fatti gli hanno dato ragione le regioni piccole non hanno più motivo di esistere lo sostiene michaela fanelli capogruppo del partito democratico in consiglio regionale all'indomani del convegno sulla macro regione adriatica che si è svolto a termoli promosso dalla stessa consigliera gli organi di marche abruzzo e molise ha aggiunto possono lavorare insieme su materie individuate arrivato il momento ha concluso michaela fanelli di sperimentare un percorso che sia in linea con i tempi e con gli obiettivi comuni torniamo a parlare di turismo tante presenze sulla costa dicevamo adriatica ma anche servizi innovativi il caso di petacciato dove sono state messe a punto mappe tattili in diverse lingue il servizio di fabrizio occhionero una migliore qualità della vita e più servizi sulla costa per accogliere anche nuovi flussi turistici puntando su accessibilità e inclusione segnaletica in inglese arbreche ebraico arabo e braille tutto ispirato ai principi di accessibilità universale con scritte icone profili rilievo caratteri grandi contrasti cromatici icone intuitive materiali gradevoli al tatto e resistenti agli agenti atmosferici questo caratterizza le mappe tattili altra segnaletica turistica prevista petacciato campo marino e monte nero di bisaccia i sindaci dei tre comuni insieme alla regione molise e alla conferenza episcopale abruzzo e molise hanno puntato su un progetto centrato sulle persone con un plauso a marco manes responsabile dell'ufficio tecnico del comune di petacciato per la gestione del progetto e la direzione dei lavori nei tre comuni oltre a facilitare la comprensione dei luoghi la mobilità la nuova segnaletica simbolicamente orienta al dialogo e l'accoglienza universali secondo i principi della carta costituzionale e la convenzione onu sui diritti delle persone con disabilità l'iniziativa rientra nel progetto europeo tourism for all che vede la regione molise capofila nella promozione di una rete di destinazioni turistiche accessibili che incoraggi la destagionalizzazione promuova l'inclusione sociale coinvolgendo 14 partner italiani e stranieri un percorso significativo che si apre al territorio coinvolgendo una rete del sociale le amministrazioni e buone pratiche di sviluppo sostenibile orientate all'inclusione e all'accoglienza nel giro di pochi mesi i serni avrà una casa di rifugio per le donne che sono state vittima di violenze sarà possibile realizzarla grazie ai proventi della vendita di alcune magliette di un disco realizzato da un carabiniere e un poliziotto l'iniziativa è stata presentata in comune vediamo con l'obiettivo di aprire anche ai sernia una casa rifugio per donne vittime di violenza è stato organizzato un incontro a palazzo san francesco per finanziare il progetto sono state avanzate due proposte all'assessore alle politiche sociali pietro paolo di perna la prima elaborata su iniziativa di irma barbato legale del centro antiviolenza di sernia è stata illustrata da debora scalzo scrittirice sceneggiatrice siciliana l'idea è quella di produrre delle t-shirt dedicate che saranno messe in vendita online nei negozi specializzati una parte del ricavato sarà destinata proprio a questo progetto la seconda proposta è stata invece avanzata dal cantante sobrino coppetelli e dal chitarrista paolo izzi un carabiniere un poliziotto con la passione per la musica che al tema delle violenze subite dalle donne hanno dedicato una canzone neanche una in più questo il titolo del brano che sta già spopolando sul web sta facendo parlare di sé a livello nazionale izzi e coppetelli hanno deciso di destinare l'intero ricavato del disco in uscita il prossimo autunno alla casa rifugio di isernia l'assessore di perna ha accolto entrambe le proposte assicurando tutto il sostegno necessario all'iniziativa l'obiettivo comune di porre solide basi per l'apertura di questa struttura protetta entro il mese di marzo quando all'auditorium disernia è prevista la fase conclusiva del progetto una giornata che prevede due momenti al mattino ci sarà un convegno alla presenza dell'ex ministro giulia buongiorno mentre la sera è previsto un concerto che avrà per protagonista la molotov cocktail band il gruppo nato proprio dalla collaborazione con sobrino coppetelli e paolo i due eventi da ricordare per guardia al fiera sono l'illuminazione artistica con un progetto nazionale per la cattedrale di santa maria assunta e la nuova campana dedicata a san giuseppe vediamo il servizio un evento da ricordare per la comunità di guardia al fiera l'illuminazione artistica della cattedrale di santa maria assunta e la nuova campana dedicata a san giuseppe giubileo della luce tante iniziative per condividere e promuovere un luogo punto di riferimento per il territorio reso ancora più suggestivo sono veramente contento è la più bella cosa che abbiamo fatto fino adesso in questi anni con la collaborazione di tante persone sia per realizzare le campane e sia anche per l'illuminazione artistica splendida ecco che è stata messa in atto molto molto significativa perché perché il suono e la luce creano un'armonia particolare un progetto di valorizzazione e illuminazione artistica della cattedrale con il coordinamento dell'associazione nazionale comuni italiani nell'occasione la messa è stata celebrata dal vescovo gianfranco de luca progettista e direttore dei lavori l'architetto raffaello gaspari è intervenuta tra gli altri elisabetta ricci possibili visite guidate oltre a essere soddisfatto sono molto emozionato sono venuti gli amici sindaci a trovarci gli assessori regionali assessore nire cavaliere ci è venuto il sottosegretario castaldi a onorarci della sua presenza a questa inaugurazione bellissima del giubileo della luce un evento che aspettavamo da tanto illuminare la nostra cattedrale artisticamente è stato qualcosa veramente di eccezionale questo è iniziato l'avventura l'anno scorso a giugno quando sono venuto a fare una piccola manutenzione e ho trovato la maniglia della seconda campana del concerto che stava lesionata la maniglia era pericolosa per la comunità il paese ha collaborato si è messo insieme si è riunito per portare avanti l'opera che poi la fonderia marinelli ha compiuto impegno e sensibilità per la nuova campana con un comitato costituito per l'iniziativa come evidenziato da mario e remo nel momento che abbiamo saputo della rottura della campana vecchia abbiamo costituito il comitato tra amici e ce l'abbiamo messo tutta siamo orgogliosi di aver fatto partecipato all'organizzazione per raccimolare i soldi che ci sono voluti e siamo contenti e termina qui anche questa edizione del nostro telegiornale vi lascio alle previsioni del tempo grazie per averci seguito prossimo tg come sempre quello della sera è tutto grazie e buona domenica grazie per aver guardato il video